Buongiorno amici di Silvia Camper, per l'apertura del Roadshow Challenger, per il nuovo X-150, ve lo mostriamo noi in anteprima. Eccolo signore, il nuovo Challenger X-150. In anteprima assoluta il Roadshow inizia da noi. Quindi, ce l'abbiamo in visione per una settimana, potete venirlo a vedere. Questo nuovo progetto innovativo, che è un progetto che ha durato qualche anno, un progetto che ha visto mischiarsi il mondo automobilistico e il mondo camperistico. Una soluzione innovativa, non è né un van né un camper. Misure strette, perché è largo 2,10, lungo 5,99 e alto 2,70. Con un'innovativa struttura automobilistica esterna, molto particolare. Vedete, non ha allacci fra le pareti, ha questi lungheroni che coprono gli incastri. E ha un nuovo cupolino di un materiale molto particolare, derivato dai macchinari industriali. Con questa colorazione, nero e bianco, nella versione speciale Open Edition. X-150 è un progetto nuovo, una linea e un progetto nuovi, molto particolare. È stato fatto uno studio speciale, durato appunto degli anni, per una migliore aerodinamica, per un isolamento particolare. È una pianta, una soluzione unica nel suo genere. Notiamo dall'esterno, il giovone laterale, che ha l'accesso anche dall'interno, tramite la porta dell'armadio. Lateralmente abbiamo il vano bombole. X-150 è dotato, nella versione di presentazione, quindi la versione disponibile ad ora, di un pacchetto Full Optimal, quindi Open Edition si chiama questo pacchetto, dotato del motore 140, cerchi in lega da 16, tutti i sistemi di sicurezza di cabina, la porta lusso con la chiusura centralizzata anche posteriore, fari neri, calandria nera, i plissettati di cabina, e tanto tanto altro, tutti i sistemi di sicurezza, il pacchetto multimedia, tutto compreso nel pacchettino, i prezzi a partire da 59,990. Come ho detto, è una livrea molto particolare, vedete, ma andiamo a scoprirlo all'interno, perché è una pianta unica. Porta lusso, con patumiera, con finestra, con oscurante, scarino integrato, zanzariera presentata di serie. Saliamo a bordo, e notiamo subito che è una pianta, in sole 5,99, che offre spazio fino a 4 persone, dotata di living face to face anteriore, con basculante principale elettrico, cabina del Fiat Ducato, ovviamente, ruotiamo la telecamera, abbiamo la cucina centrale, e il bagno in coda, cucina con frigorifero grande. Ok, partiamo dall'anteriore, abbiamo la cabina del Fiat Ducato, la versione che abbiamo in visione, ha il motore 160 e il cambio automatico, se uno la volesse, questa versione qui è disponibile solo da fine stagione, quando avrà fatto tutto il suo road show, anche per gli altri concessionari. Vedete, il pacchetto Open Edition è complessivo di tutto, tutti i sistemi di sicurezza, climaco, riscontro, il pacchetto multimedia, addirittura della radio, Android 2DIN, con retrocamera, gli oscuranti plissettati, sia davanti che laterali, foderine dei sedili davanti in tinta, con proprio bracciolo, entrambi girevoli ovviamente, comandi a volante, pomero del cambio e il volante sono in cuoio. Gli specchi sono elettrici e sono richiudibili, di riscaldamento del gasolio con le best packer. Diamo un'occhiata al posteriore, molto particolare, vedete questa sala con due panche face-to-face molto grandi, col tavolo al centro, che si può ampliare, vedete, a libero, e può traslare avanti e indietro. All'interno delle due panche, in questa zona qui, troverete i sedili di marcia. Al centro del camper troviamo il blocco cucina, molto innovativo, una soluzione studiata ad hoc, dotata di due prese usb, i pulsanti per abbattere elettricamente il tavolo e per far scendere il letto. Blocco cucina, due fuochi, il lavandino. Cucina dotata di cassettoni, primo addirittura con il portabottiglie, grande. Qui ne abbiamo altri tre, il primo col portaposate, tutti con chiusura ammortizzata, il secondo per le pentole eventualmente, e il terzo è uno sportello invece, un altro piccolo vano sotto. Sopra la cucina abbiamo questi nuovi pensili, con una chiusura innovativa, vedete, in alluminio, molto ampi, e la cucina è attrezzata lateralmente con la mensolina per tenere le spese dei gancini per i canovacci. La sala è dotata di una finestra e una soluzione particolare a parete, con uno specchio, una lavagna, e questa è una classica bacheca in sughero per appendere le vostre cartoline dei vostri viaggi. E la ritrovate anche qui all'ingresso, una soluzione particolare che dà un'eleganza e una modernità di più al veicolo. Di serie ha anche la staffa per la televisione, come detto, frigorifero grande e slim, 140 litri, con il congelatore, letto principale appunto basculante e bagno in coda trasversale. Ecco qui ci dedichiamo due minuti perché abbiamo una soluzione molto particolare anche della zona del bagno. Abbiamo, entrando al posteriore, una porta sulla sinistra, vedete, che serve per separare la zona spogliatoio e zona bagno dalla zona giorno. Ma non solo. Andiamo a scoprire che cos'è. Entriamo nella zona spogliatoio e nella zona bagno. Apriamo la nostra porta e ne notiamo una seconda che invece sclude solo esclusivamente il bagno. Scorrevole. In questo modo, adesso ve lo faccio vedere meglio dal bagno, mi ruoto, intanto vedete un po' di bagno, abbiamo in questo modo qui, vedete chiudendo la porta di prima, una zona spogliatoio con un armadio grande con la pendiabiti e soia di piani enorme e a sinistra un altro vano che è comunicante con l'esterno. Si può utilizzare come armadio oppure come gavone che vi avevo fatto vedere la porta da fuori, vedete, comunicante con l'esterno. Sopra invece ha due ripiani sempre comodi. Anche il bagno è una soluzione molto particolare. Quando entriamo nel bagno a sinistra troviamo vedete il mio brutto faccione, abbiamo un pensile sopra due ante tutto specchiato, vedete, e in basso il WC. E il lavandino? Il lavandino è a scomparsa qui al centro. Ta-da! E' anche molto molto grande e devo dire notevolmente comodo perché mi arriva la pancia. Quindi ampio, comodo, con sopra due sportelli per stimare. il lavandino ha una sua illuminazione addirittura delicata. Vedete? E adesso viene il bello. E' un po' fatica a farvelo vedere perché devo girarmi. la doccia. Allora, intanto abbiamo la pedana di legno qui al centro perché la doccia è questa misura qui della pedana. Vedete? Di fronte a me c'è una porta a serrandina che scorre, ruota e ruota. mi chiude quello che era il lavandino. Ve lo faccio vedere meglio. Vedete? Qua c'è il mio lavandino. Io mi chiudo dentro. Esattamente così. Vedete? Quindi sono sempre sulla pedana di legno. Ok? Però adesso alle mie spalle c'è la doccia. Quindi una bella doccia grande. Quasi un metro per cinquanta. Vedete? Mia pedana di legno col doppio scarico. Una doccia anche allestita perché abbiamo una mensola. Qui abbiamo delle nicchie. Vedete? Per questi vari prodotti della doccia. Ne abbiamo tante. Ne abbiamo ben sei di nicchie. Più un supporto per il sapone o per la spugna. E il suo saliscendi. E sopra di me abbiamo lo blu dedicato e il famoso appendi abiti per l'accappatoio che anche se la porta gira la faccio vedere anche se la porta ruota l'appendi abiti rimane utilizzabile. Come vedete è un progetto molto particolare unico sul mercato che non ha nessun tipo di competitor. Adesso vi voglio mostrare il letto principale il letto principale è basculante elettricamente vedete scende e la tenda laterale si richiude da sola può scendere fino a pari le panche tranquillamente eliminando gli schienali e sotto possiamo creare un secondo matrimoniale il primo principale molto grande circa 150x195 con il materasso schiumato sempre in latiflex con le doghe con le retanti cadute la sua scalettina se lo si tiene un po' più in alto ha un telaio innovativo in alluminio e una struttura portante con delle catene invece di avere le classiche cinghie oltre al telaio ha due plafoniere molto particolari dedicate vedete con la luce e lateralmente due prese usb abbiamo due plafoniere uguali in questo modo qui vedete la salita e la discesa dedicata da questo pulsante qui è molto veloce e molto rapida anche la plafonia della sala è uno studio unico vedete a led molto particolare molto bella fatta così a spirale il tavolo anch'esso se uno lo vuole abbattere per fare il letto matrimoniale si abbassa vedete elettricamente e permette di fare il matrimoniale tenda laterale come ho detto si arrotola sono quelle domestiche vedete in questo rullo si tira su le plafoniere del letto sono due si possono utilizzare anche per la sala vi voglio dimostrare la cucina farvi vedere che ha un ulteriore piano di appoggio laterale quindi molto molto ampia giriamo le telecamere facciamo due chiacchiere eccoci qua siamo all'interno del nuovo con il nuovo x150 di challenger come ho detto è un progetto particolare durato qualche anno addirittura ci hanno lavorato i studiosi che hanno creato la nuova Peugeot 3008 con dei materiali appunto anche per il cupolino derivati da macchinari edili quindi strutture molto molto importanti strutture più rigide ma anche più malleabili nelle torsioni caldo freddo e comunque le vibrazioni del camper classiche una coniezione nuova una coniezione nuova delle pareti uno studio aerodinamico particolare per questo camper che ha una via di mezzo fra un furgone e un semi integrale alle misure del furgone come ho detto 2,10 di larghezza 2,70 di altezza rimanendo sotto i 6 metri quindi 5,99 però con il comfort di un semi integrale con la disposizione più richiesta per la coppia soprattutto che è quella di tutto living che permette di avere la zona giorno immensa perché addirittura loro dicono 5 persone ma in realtà è una sala per 6 persone tranquillamente ci si sta anche in 7 senza problemi bagno in coda cucina centrale si può stare fino a 4 perché come avete visto ha 4 posti viaggio con i sedili scomparsa nelle panche anteriori e ha 4 posti letto adesso vi mostro il secondo matrimoniale ecco qua avete visto anche la disposizione con il secondo matrimoniale il veicolo è in visione verso la nostra concessionaria grazie a questo evento creato dalla challenge che si chiama Roadshow Open Day per una settimana quindi fino all'8 di giugno poi andrà in un altro concessionario è ordinabile si può avere ordinandolo ora alla fine dell'anno io vi aspetto in tanti per conoscere questo progetto particolare in cui noi crediamo molto anche noi insieme a Challenger in questa soluzione innovativa che non ha nessun tipo di competitor sul mercato amici a presto